io pensavo fosse un musho pensavo fosse una macchina oh vogliamo fare i piedi là? Gioia dove fa fare la musho? che bella abbiamo messo ti diri ti diri e' uno di questi all'inizio è la palla poi ci metti la palla quanti vuoi? la palla? riuscola riprendi la palla vero? forse è questa la palla che cazzo è stato un po' si ma quale palla? la palla ormai non c'è più la palla è andata perchè? perchè si è sciolta ma la palla Silvia ma che palla? ma è prato la palla ma scusa ma è pronta? vabbè vabbè dammina te la palla? si è sciolta dov'è? si è sciolta ma la palla? fai qualcosa troppo 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 mi pari con le patate patata questa è una canzone di si torno con la pelle che devo fare e scelta è ciò che non esiste è tutto bene è il chino è il chino è il chino è il chino per mia parte mi voglia per non sbagliarsi capito? mia madre lo conosce a zone mi fa tanti ma magari ha sempre tanti complimenti ma è bella io carini si non è l'altra ti piace la palla si sono africana la location la location è bene non dov'è sapere non dov'è sapere ma queste cose vorrebbe un po' però si io non lo vedo io metto vai vieni guarda guarda non ti sbrillo la buzica vai non lo so ci sai ricorda noi no no? il mondo è giusto il spirito è giusto siamo qui oggi e non è enough solo abbiamo un'ottima notte un'ottima notte un'ottima notte un'ottima notte un'ottima notte il partito è il sentimento qui che solo viene un'ottima notte un'ottima notte un'ottima notte un'ottima notte un'ottima notte un'ottima notte ora noi prendiamo i numeri spiegatela allora ognuno di noi ha un numero ha un regalo ora non li scopriremo e scopriremo qual è il nostro regalo esatto ahahah 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 che numero sei? 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 oh mio dio tu hai il mio ci siamo scambiati allora che numero sei? che numero sei? pronte? oh mio dio nooo è bellissimo nooo non basta è bellissimo no è bellissimo genio buongiorno 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 pazzesco pazzesco con il fascino della tedesca buongiorno buongiorno ciao ciao spieghi a nero spieghi a nero ooooo vado a vedere quanto sei natalizia ho fatto comunque un piccheggio per me questa è la faccia che voglio la vogliamo fare giochiamo a stima? buongiorno guarda 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 erano due sono la migliore fatti regalo un po' il capitano di questa cipolla sono io spedirò tutti verso l'infinite oh 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 becchieri eee nooo c'è da c'è ma la parla? ahahahahah che cosa di scrivere? che le dobbiamo scegliere? becchieri 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 becchieri